Il terzo settore né mercato né Stato, in sintesi come la città, il titolo della nostra trasmissione di questa sera, l'argomento è complesso, per fare una sintesi, per cercare di capirne un po' di più anche perché allo stato dei fatti ci sono delle riforme in essere, abbiamo con noi un esperto di terzo settore posso dirlo Roberto? Un esperto insomma, di volontariato in particolare. In tanti ricordano il tuo intervento all'auditorio della regione con applausi, levate di scudi. Quel giorno è andato bene perché avevo messo tanta passione Tanta passione. È importante, ecco, la passione. La cosa a te interessa dal punto di vista del volontariato ovviamente perché tu sei un attivista, fai un sacco di attività nella zona collinare, sappiamo del tuo impegno con la ciclistica buiese. Che condizioni ci sono con questa riforma del terzo settore per la tutela del volontariato? Che tu giudichi sempre un po' messo in crisi, un po' in difficoltà. Allora, questa riforma che è in atto, mancano ancora dei decreti attuattivi, vuole accorpare tutto il mondo del volontariato sia quello gratuito, sia quello non gratuito. Secondo me il peccato originale di questa riforma è mettere insieme il volontariato gratuito dall'altro volontariato che riguarda società di certo tipo, ONG e tante cose, no? Perché almeno nella nostra zona il volontariato ha una forma solamente gratuita, no? E quindi la riforma... La tradizione di quel genere è lì per quello che riguarda il nostro territorio, no? Esatto, la riforma vuole normare perché ovviamente dove girano soldi, perché appunto in questo settore delle cooperative sociali e quant'altro girano anche soldi e quindi rimane... Io faccio l'esempio, no? Di come questi due mondi non possono convivere. Sì, tu sei ostile, diciamo, a questo tipo di soluzione. Io vorrei che il volontariato gratuito, come lo interpretiamo noi nella nostra zona, sia staccato dall'altro. Perché altrimenti rischiamo di penalizzare questo patrimonio che la Regione ha numericamente 250.000 volontari, quindi il 20%. Sentivo l'altro giorno Matteo Renzi che diceva che era orgoglioso che l'Italia ha 4 milioni... Attenzione, siamo in campagna elettorale, attenzione con l'esternazione. No, no, non è un'esternazione, cioè io parlo di numeri, no? Sì, cosa diceva Matteo Renzi? È orgoglioso che l'Italia ha 4.800.000 volontari. Sì, 500.000 forse erano, 500.000, dai, meno di 5 milioni. Meno di 5 milioni, e quindi meno del 9%. Noi in Regione abbiamo oltre il 20%, no? Per questo è un volontariato capillare diffuso sul territorio. Come mai è un territorio così virtuoso da quel punto di vista? Ma è una tradizione, io penso che dagli anni 60, lo abbiamo detto più volte, c'è stato questo rinnovamento anche strutturale, meno immigrazione, più fabbriche in zona, quindi la gente ha cercato la socialità e quindi sono nate tantissime associazioni e quindi questo è un patrimonio da difendere, che dal mio punto di vista questa riforma non mette nel giusto risalto. Senti, mancano alcuni decreti attuativi, no? Sì, mancano i decreti attuativi. Potrebbero migliorarla, potrebbero modificarla, che cosa dovrebbero... Io spero che possano modificarla, perché non so se la Regione ha la possibilità di decretare qualcosa di particolare, dato che c'è una Regione speciale, per fare, per tutelare meglio... Tu vorresti un intervento legislativo di chi ha la competenza su questo aspetto, per che cosa dovrebbe modificarsi, no? Facciamola semplice, perché altrimenti dopo entriamo in contesti complessi e non è facile per nessuno. No, farla semplice è tutelare il volontariato, quello che abbiamo... il nostro volontariato storico, no? Perché il volontariato... per quello mi schiero un po' contro questa riforma, perché il volontariato è passione, è impegno, è gratuità, solidarietà, spirito di comunità, progettualità, cioè questi sono gli spiriti che tengono sul volontariato e quindi penalizzarlo anche perché, per esempio, nella riforma, che dico 104 articoli, 43 pragine, cioè un'infinità di normative che credo sia difficile da... Ti mettono in difficoltà, soprattutto chi lo fa, diciamo, no profit in questo caso, diciamo, no profit magari possono essere tutti, insomma, anche quello completamente gratuito, ecco, non possiamo questa... a dire, no, è stato... No, ti vorrei chiedere, tu sei esperto per tradizione, per partecipazione di società sportive, dove verrebbero, diciamo, non tanto penalizzate, come verrebbero condizionate le società sportive? Allora, le società sportive, lo abbiamo detto più volte, ripetiamolo però, no? Soprattutto chi fa sport a livello giovanile dovrebbe avere un supporto economico, normativo, di tutela, anche per quanto riguarda le responsabilità. Invece, all'articolo 5 c'è solo una lineetta, l'articolo di tutti... Spiegati bene questo supporto economico, dovrebbero essere sostenute le società per l'attività giovanile a livello di responsabilità assicurativa, in questo senso. Responsabilità assicurativa, ma soprattutto anche un sostegno economico, no? O degli sgravi, perlomeno. Invece, in questa riforma, è stato giù la delegazione friulana in dicembre a Roma, per quanto riguarda i decreti attuattivi, sulle società sportive, che era uno degli obiettivi da inserire nella riforma del terzo settore, il CONI ha fatto una forma di fiscalità di vantaggio, no? In modo che le società sportive non entrino... Di già qualcosa, no? No, non entrino nel terzo settore, e quindi anche il ministro Nolotti non sono riusciti ancora a corpare, diciamo, tutte le società sportive nel terzo settore, perché il CONI ha messo questa clausola di tutela fiscale migliorativa rispetto a quella che è nel terzo settore. E per questo lo sport deve essere tutelato maggiormente, no? Perché se no rischiamo, appunto, come facciamo un allarme solito, rischiamo di perdere questo patrimonio che ormai è consolidato nella nostra regione. Mi senti, hai parlato di denaro, no? Non dovrebbe... Diciamo, è un argomento difficile da definire, però in questa riforma come viene affrontato? Allora, questa riforma, come dicevo, ha 104 articoli, quindi è molto complessa. Non tutti parlano di soldi, però. No, ci sono due ministeri, ci sono diverse commissioni. Quali sono il ministero dello sport, ovviamente, delle politiche sociali? Sì, esatto, perché... E quindi ci sono una serie anche di commissioni di controllo, perché chiaramente dove ci sono soldi è giusto normare che siano ben regolarizzati, no? Altrimenti c'è l'approfittamento di chi è navigato in queste cose. Ecco, per dire che i due mondi sono diversi, ci ricordiamo nel 2004, quando sono state sequestrate le due Simone in Iraq, che abbiamo pagato un sacco di soldi, abbiamo saputo che prendevano, erano volontari, quindi ci siamo quasi commossi, che prendevano 4.500 euro al mese, no? E questo, sì, è un volontariato differente da quello che immaginiamo noi nella nostra esperienza. Sì, adesso verrà lo stesso piano, dici, no? Sono due tipi di volontariato differenti. Senti, mi era segnato l'articolo 17 della riforma, si parla di rimborsi, no? Era interessante in quel senso. L'articolo 17 è quello che racchiude un po', dal mio punto di vista, le problematiche di questa riforma, perché dice intanto, sottolinea che il volontario è una scelta personale, quasi che fosse un peccato. Si viene un po' discriminato in questo senso. Tu hai scelto di fare il volontariato, quindi la riforma mi sottolinea questa cosa qui. Poi hanno messo un rimborso spese giornaliero di 10 euro per un massimo di 150 euro al mese e io penso che questa sia un'offesa, insomma, uno non può fare il volontario per avere un rimborso spesa, no? Tratto di quella quantità economica lì. Forse per semplificare tante questioni, insomma, perché ci sono delle situazioni dove la gente investe del tempo che è denaro, no? Sì, ma dico, cioè... Non è una... Non è tutto gratis. Ma è chiaro, cioè lo spirito è quello, altrimenti qui rischiamo di creare interessi che il volontariato non viene da avere. Ma perché si è voluto fare adesso a sensazione, un calderone unico così? Eh, perché probabilmente chi ha fatto la riforma ha poco spirito e poco conoscenza del volontariato. Anche perché in questo famoso... Si faceva tanta fatica a distinguere le cose. Quando... Perché ogni imposizione è con la sua dignità, no? Sì, no, anche perché... Tornando all'articolo 17, fra l'altro, una cosa che è una contraddizione, noi qui in regione avevamo un rimborso spese per i donatori di sangue, cioè un rimborso per il tragitto da casa all'ospedale, che era un rimborso simbolico. Simbolico, chiaro. Più del 90% dei donatori lo lasciava alla sezione, anche contributo per le attività che fa. Per esempio Buia, che ha 750 iscritti... Però sono tanti, eh? Eh sì, più del 10%. Siamo un comune virtuoso. Orgoglio, vedo gli occhi lucidi quasi. Sì, sì, virtuosissimo. E quindi entravano nelle casse dell'associazione, circa 2.000 euro all'anno, che venivano utilizzate in maniera virtuosa o per un sostegno per l'attività promozionale o sostegno in qualche esigenza particolare. È stato abolito questo rimborso, che era anche un punto di orgoglio per i donatori di lasciare questo... Sì, ti dici, era più... Sono donatore, non voglio rimborso. La percentuale, come dicevo, di chi lasciava questo rimborso era molto significativo. Invece nello stesso articolo c'è invece che sono esonerati da questi conteggi, da questi rimborsi, chi fa attività internazionale. sono ONG, per esempio. Ah, ok, certo. Di volontariato sociale. Torniamo alla questione di prima. Nel 2016 ONG avevano 22.600.000, quest'anno è stato portato a 40 milioni il contributo statale per queste attività. Ok, ok. E quindi... Come dicevamo prima, sono due mondi diversi e non devono essere normati, almeno secondo quello che ci stai raccontando tu, allo stesso modo. Questo è il problema principale. Poi ognuno può fare l'attività che gli comoda e il tipo di, diciamo, seguire gli interessi a cui è preposto. L'umore del mondo associazionistico, di quello che è l'associazionismo, fra virgolette, storico, che è quello che tu rappresenti, com'è in questo senso? Sappiamo del tuo discorso, se hai ricevuto un sacco di applausi, qualcuno ti avrà applaudito, no? No, avevo fatto un intervento con tanto trasporto su questi temi. E quindi io penso che 500 persone lì erano molte del volontariato gratuito. Sì, certo. Anche perché, come dici tu, è quello che troviamo dalle nostre parti, insomma, per la maggior parte dei casi. Poi ci saranno anche altre situazioni. Però, se uno pensa all'idea di volontario, è quella lì a cui fai riferimento tu, sicuramente. Ma Friuli Venezia Giulia, no? Sì, no, anche perché... Per la maggior parte, diciamo. La Presidente Saracchiani sottolineava le piccole realtà come fosse... Invece le piccole realtà sono tasselli di un mosaico splendido. A voi abbiamo più di 60 associazioni, a Gemona più di 100. Tu dici che discriminasse un po'? No, dai. Non lo so. Non so. Io spero che la Regione sappia essere vicina al volontariato e sappia anche tutelarlo nella maniera opportuna. Anche perché nel... Però lo è stata negli anni, dai, con diverse bandiere, però non mi ricordo mai di una ostilità nei confronti del volontariato. No, no, ostilità no. Cioè il sostegno. Da che io ho memoria politica, insomma. Adesso non parlo negli ultimi cinque anni. Sì, no, no, bene. Ah, ecco. E quindi, sì, sbaglio, sai. No, dico, eh. Dopo correggimi se sbaglio. No, no. Diciamo, il volontariato ha bisogno del sostegno della Regione, delle istituzioni, perché altrimenti quel poco che si riesce a utilizzare per l'attività, guai, non ci fosse, no? A proposito di questo, vorrei dire... Sì, 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 Roberto. Diciamo le nostre battaglie, le mie, fra virgolette, le mie, fra virgolette, qualcosa di buono hanno ottenuto per adesso. Spero che magari ci sia molta solidarietà a discutere di questi temi, no? Ok. Perché, non voglio tornare a dirlo, ma il nostro, insomma, è un volontariato di un valore assoluto. Abbiamo capito il messaggio di Roberto. Sì, no, no, dicevo, quello che si è ottenuto, l'obiettivo che eravamo preposti era quello di avere un'assicurazione di copertura per le attività del volontariato. Per ora si è ottenuto, grazie anche all'interessamento di Ennio, del consigliere regionale Ennio Agnola, un contributo di 15.000 euro finalizzato alla... Però società, 15.000 euro o complessivi? No, 15.000 euro, come progetto pilota che nella comunità colinare del Friuli con 15 comuni, più Tavagnaco, Tricesimo e Pagnaco, dove con questi 15.000 euro si dà la possibilità alle associazioni di avere informazioni, supporto burocratico e tutto quello che serve per alleggerire il carico di lavoro perché ovviamente la burocrazia e tutte le normative che vengono è importante che ci sia questo riferimento. Dopo ti danno il contributo per snellire la burocrazia e ci sono nuove leggi, no? Questa è una battuta... No, 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 veramente uno dei problemi anche del volontariato che lo abbiamo ribadito più volte è quello di tanta burocrazia. Quello è un problema di chiunque ci sta ascoltando a casa. Quello della burocrazia, sai che è diffusa. Senti, Roberto, dobbiamo chiudere perché ci saranno se non dico ancora questa cosa. Quindi è un progetto pilota che se funziona bene viene esteso a tutta la regione. Benissimo. E questo è un piccolo obiettivo che penso dia possibilità al volontariato di andare avanti e anche perché questo riconoscimento che fra l'altro è piccolo ma pensiamo che possa aumentare è importante dal punto di vista morale. Certo, certo. Le istituzioni ci sono vicine. Già un inizio, dici. Quindi andiamo avanti. Con fiducia e magari con controllo. Con la prossima legislatura insomma ci sarà lo spazio per ampliare questo progetto che avete iniziato. Grazie Roberto che sei stato con noi ormai sei un'abitura della trasmissione. Vengo qui volontieri e ringrazio quegli spazi che date perché sono temi importanti che magari la politica non mette in primo piano La politica ci ascolta e dopo il pregge in considerazione. La politica speriamo che ci ascolti e recepisca il messaggio. Grazie Roberto. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e appuntamento alla prossima con Viceversa. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.